I tre girasoli di Loredana La scelta della tesi era stata in fondo semplice. Scrivere di patriarcato e del ruolo storico dell'uomo, purtroppo ancora responsabile di violenze e abusi sulle donne, mi aveva entusiasmato come non mai. Persino la decisione di intervistare donne in un centro antiviolenza mi era sembrata l'idea portatrice di un progetto ancora inconsapevole in me, ma che prendeva forma e tratti. Il giornalismo poteva essere quella strada di cui tutti mi chiedevano, ma di cui io ancora non conoscevo il nome. Credevo sarebbe stato semplice entrare ed uscire dalla vita degli altri. Il professore aveva fatto cascare dall'alto lo sguardo e il favore. Guardi, hanno accettato solo in tre. D'altra parte lo capirà. Lei scrive una tesi. Loro l'hanno vissuta. Così ho preso un treno e ho viaggiato, viaggiato e viaggiato in un campo di girasoli. Tre girasoli in un campo di erba gramigna infestante, irruenta, viscida, che lenta, giorno per giorno, ha cercato di reciderli, far cedere l'incrollabile speranza di un giorno migliore pieno di sole. Tre storie diverse, perché è vero che l'infelicità ognuno la vive a modo proprio. L'unico legame comune fra loro sarebbe persino banale se non fosse il motore che accende il mondo, l'amore. Maria, Teresa, Maddalena 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 Maddalena